Mauro di Dalmazio sicuramente cinque anni fa è stato il protagonista della vittoria di Gianni Chiodi, o meglio, avendo costituito e essendosi impegnato per la costituzione della lista civica al centro per Chiodi, quindi sicuramente dette quel surplus, quella plusvalenza in termini di voti che consentivano a Gianni Chiodi di vincere perché, vogliamo ricordarlo, non vinse per molto sul professor Lino Befacchia. Per averlo già detto e già chiesto a Maurizio Brucchi voglio riconfermare che l'idea che ho avuto quest'anno è che l'assessore Mauro di Dalmazio si è troppo impegnato probabilmente negli ambiti, e giustamente, negli ambiti del turismo, della cultura, la ricostruzione, il terremoto, è un po' troppo poco per questa lista civica che mi sembra cosa assai modesta, costruita attorno a alcuni consiglieri comunali, qualche passato assessore e poco più. Ecco, io Mauro penso che questa volta tu non riuscirai a portare lo stesso grande successo dell'altra volta e non riuscirai neanche ad avere un successo a fronte di una vera corazzata che è quella del PDL, tu che ne pensi? Io penso, anzi mi auguro che tu ti possa sbagliare, sono perplessità, dubbi, critiche se vogliamo anche, considerazioni del tutto legittime. Io dico solo una cosa rispetto a questo, che il giudizio sul valore di una proposta civica che si cimenta nella consultazione elettorale evidentemente si può dare anche solo all'esito della consultazione stessa. Io invece sono molto contento del percorso che ha portato alla costituzione di questa nuova lista civica per due ordini e ragioni, con ciò senza poter fare previsioni su quello che sarà l'esito, che io però spero, mi auguro e devo dire anche, credo sarà un buon successo. Due sono le considerazioni positive. La prima è che innanzitutto un'esperienza civica non si è consumata nel breve volgere della competizione elettorale. La lista civica al centro Conchiodi espresse dei consiglieri, poi espresso degli assessori, che sono rimasti con il gruppo così costituito in Consiglio Comunale, e oggi, come è giusto e logico che sia, formano un po' l'ossatura attorno alla quale si è costituita questa nuova lista civica. Quindi non c'è stata una dispersione. Tra le altre cose la lista civica l'altra volta poi si trasformò in un'associazione, come è giusto che sia, proprio perché la lista era funzionale alle elezioni, passate le elezioni si trasformò in un'associazione, quindi questa persistenza di questo gruppo credo che sia un dato positivo. L'altro dato positivo è questo, è che noi abbiamo chiuso, tra virgolette evidentemente, la lista civica, e cioè abbiamo collocato i 40 candidati, innanzitutto in anticipo rispetto ai tempi di presentazione e con la disaffezione alla partecipazione diretta alla politica, con il fatto che le liste sono molto ampie, 40 candidati, io credo che sia un dato da non sottovalutare, soprattutto per una lista civica che non può contare evidentemente su un apparato organizzativo consolidato o su un apparato di coinvolgimento consolidato. Noi abbiamo chiuso la lista alcuni giorni prima nel termine ufficiale, senza dover far ricorso a quelli che talora capita di coinvolgere come candidati per terminarla la lista, per riempirla. Ovvero sì, al di là della forza che poi ciascuno di noi potrà esprimere, della forza elettorale, del consenso che riuscirà a raccogliere, le adesioni che abbiamo ricevuto sono state tutte adesioni entusiaste, tutte adesioni di partecipazione, non adesioni indotte o in qualche maniera sollecitate. Per cui questi due dati positivi mi lasciano sperare bene, poi credo che ci siano donne, giovani professionisti, abbastanza frizzante la lista, io credo che possa avere un buon successo, ma ripeto, queste le previsioni sono fatte poi per trovare o confermo smentita all'esito di quella che è la consultazione. Lista civica, impegno civico dei cittadini, il professor Lino Befacchia che fu protagonista assoluto della campagna elettorale cinque anni fa, quest'anno nell'ambito del centro-sinistra si è adoperato con altri amici per una lista civica. È stato il protagonista apparente, io dico apparente, della scelta di Paolo Albi. Qualcuno dice che sia stato il contentino per non aver potuto candidare lui quest'anno a sindaco e soprattutto che questa scelta che ha fatto la lista civica delle virtù, voglio ricordarlo, sia stata in realtà solo una copertura perché il PD era impossibilitato come partito a scegliere Paolo Albi perché è troppo invischiato con una politica di centro-destra. Con l'amico Nodari condivido molte idee, un impegno, se posso elevarmi alla sua altezza civile, non condivido un'analisi che lui ha fatto, c'è stata una decende polemica che preferisco non ricordare. Non avevo nessuna intenzione di continuare un impegno politico perché mi sono bastati quattro anni perché anche l'altra volta io ho fatto quella scelta all'ultimo momento, sapendola perdente e quasi eravamo riusciti a vincere. Perché mi sono ritrovato in mezzo quando avevo scelto altre attività professionali e altre cose che ritengono più dilettevole di un impegno, ho ritenuto che la città meritasse una maggiore attenzione e non mi sembrava che il panorama politico avvertisse la necessità di un confronto con il centro-destra che è stato vincente a mani basse dopo l'esperienza regionale traumatica che tutti conoscono. È un'esperienza traumatica perché le partite da sinistra si sono quasi squagliati, non tanto per meriti dell'avversario, quanto per demeriti assoluti. La città ha giudicato in maniera severa una certa politica, diciamo opaca e non usiamo altri termini, opaca, pesante, quasi talvolta nauseante nei vari cliché. Questo era il presupposto, una città così disaffezionata io penso che meritasse maggiore attenzione, questo è stato il movente. Non posso dire a me stesso un contentino perché il contentino si dà se uno aspira delle cariche, o a degli incarichi o a delle presidenze, io non aspiro a nulla, quindi mi aspiro semplicemente se posso ricordare una parola, la dignità del cittadino e su questo io mi sono adoperato. Circa la scelta del candidato sarebbe troppo lungo ricordare tutti gli itinerari fatti negli ultimi sei mesi attraverso un dibattito che ho acceso già sei mesi fa. Non può essere Paolo Albi il contentino per Befacchia perché Befacchia non è stato deluso, è stato premiato da una città che quattro anni fa gli ha espresso 18.200 consensi e allora ho cercato ancora una volta di restituire. Il fatto stesso è che in questa lista siano presenti cittadini di una alta levatura morale e professionale. Forse mi fa dire che questo tentativo non è un tentativo secondario, forse è l'atto più importante negli ultimi cinque anni che si sta consumando in questa città. quali sono i personaggi? Lì li possiamo vedere, gente che non ha una storia politica, che ha una storia professionale e una grande qualità. Penso che sia una lista di grande livello e forse i numeri che verranno mi dimostreranno, ci dimostreranno che forse questa scelta, questa proposta, questo impegno saranno premiati.